Dall'alto piano di Asiago a Quinto Vicentino, 29 sono i comuni che nell'ultima settimana hanno visto impegnati i carabinieri della compagnia di Tiene in un servizio straordinario di controllo del territorio e prevenzione e repressione dei reati cosiddetti predatori. Ben 124 i militari impegnati in 62 pattuglie che durante l'attività straordinaria hanno fermato 379 persone ai posti di controllo, verificando 281 veicoli, due dei quali sono stati sequestrati per violazioni amministrative. L'attività ha previsto anche l'ispezione di 18 esercizi pubblici e la segnalazione alla prefettura di due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.